Ha tentato di sfondare a calce e pugni il portone dell'appartamento dell'ex convivente, mentre minacciava di morte sia la donna che i due figli, che terrorizzati di lacrime si erano barricati in casa. È successo ieri sera in pieno centro Aretino, in via Nicolo Aretino. Arrestato un 38enne tunisino pregiudicato per atti persecutori nei confronti della donna, costretta a subire danni, sopraffazioni, violenze, minacce ed umiliazioni, spesso alla presenza anche dei figli. A richiedere l'intervento dei carabinieri ieri pomeriggio era stata la donna, anche lei di origini tunisine. Sul posto i militari hanno sorpreso l'uomo che stava cercando di sfondare il portone, mentre gridava frasi minacciose sia in italiano che in arabo. I carabinieri lo hanno immediatamente fermato, gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire la terribile storia della donna che non aveva mai denunciato l'uomo per timore che la sua violenza potesse riversarsi anche nei confronti dei bambini. L'uomo era arrivato a mortificare la ex convivente di fronte ai figli, mostrando l'attuale convivente ed esaltandola rispetto alla madre dei piccoli. Nell'ultimo periodo era diventato ancora più pericoloso, aveva minacciato l'ex convivente di figli di morte, l'aveva picchiata tanto che lei era stata soccorsa dal personale del pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Stanotte l'incubo è terminato con l'arresto del tunisino per stalking. Il sostituto procuratore della Repubblica, Andrea Claudiani, ha disposto che l'uomo fosse ristretto nel carcere di Arezzo in attesa della convalida dell'arresto.